Questo video è per mostrare come si effettua l'esame obiettivo del collo. Anche in questo caso, come per il resto per tutte le forme di esame obiettivo, il medico utilizza i suoi sensi, la vista per ispezionare il collo del paziente, il tatto per palparlo e l'udito per ascoltare magari delle formazioni vascolari più che altro che sono all'interno delle strutture del collo. Quindi cominciamo con l'ispezione. L'ispezione, uno si rende conto della conformazione del collo e se sui teghi momenti che ricoprono il collo sono presenti delle alterazioni che fanno sospettare presenza di tumefazioni. Un'osservazione più attenta si può fare invitando la paziente a porre il capo all'indietro e a girare il collo prima da una parte e poi dall'altra. Una volta effettuata l'ispezione, il medico per fare una palpazione da una posizione migliore si deve portare alle spalle della paziente. La posizione più corretta per effettuare la palpazione del collo è di porsi alle spalle della paziente e le mani del medico che visita andranno a palpare la regione anteriore del collo anche perché c'è da dire che nella patologia del collo e quindi nell'esame obiettivo del collo la parte più importante di questa regione la svolge la tiroide essenzialmente l'ispezione del collo è un'ispezione della ghiandola tiroide oltre poi anche alle altre strutture. Quindi il medico cercherà quelle che sono le salienze delle cartilagini tracheali sentirà la trachea e sapendo che la tiroide ha due lobi laterali e un istomo anteriore cercherà di palpare almeno la porzione istnica della tiroide. In condizioni normali i lobi della tiroide non si apprezzano e quindi il medico cercherà di rendersi conto con la palpazione se invece, viceversa, la ghiandola è aumentata di dimensioni. Se la ghiandola fosse aumentata di dimensioni per rendersi conto che si tratta proprio della tiroide si fanno alcune semplici manovre. Dal momento che la tiroide, come abbiamo detto, è solidale con la trachea e quindi con tutto l'asse laringotracheale se si invita la paziente a deglutire, prova a inghiottire ecco, l'atomefazione tiroidea eventualmente evidenziata sarà solidale con l'atto della deglutizione e quindi si muoverà. Altra forma per evidenziare una patologia tiroidea quindi un'atomefazione sicuramente tiroidea è quella di invitare la paziente a fare un'ispirazione a glottide chiusa. Cioè effettivamente è quello che si fa quando si fanno, diciamo, dei colpi di tosse cioè si chiude la glottide e si tenta di espirare. provi in questa ponzare, come si chiama in termini medici se l'atomefazione tiroidea diventa ancora più manifesta respiri liberamente. Un'ultima ulteriore, diciamo, manovra per assicurarsi della pertinenza dell'atomefazione alla tiroide è che dal momento che la tiroide qui è ricoperta dai muscoli nastriformi propri del collo se si invita la paziente ad abbassare il collo e la si contrasta facendo pressione sul mento in questo caso vedremo che l'atomefazione diminuisce di dimensioni perché è compressa dai muscoli anteriori del collo. Una volta effettuata così la palpazione si può passare alla ascultazione del collo Si conclude l'esame obiettivo del collo con l'ascultazione sulla porzione del collo specialmente quella anteriore per due motivi è perché decorrono sul collo dei vasi arteriosi di cui noi possiamo sentire la pulsazione ma specialmente nel caso di una patologia tiroidea e specialmente quando questa sia iperfunzionante si possono udire dei soffi vascolari dovuti proprio all'aumentata, diciamo, vascolarizzazione della tiroide patologica. Quindi sempre stando in posizione al di dietro della paziente si pone il fonendoscopio sulla regione anteriore del collo e si cerca di percepire se esistono delle alterazioni di soffi vascolari. Con questa manovra si sente anche una cosa importante il passaggio dell'aria nelle vie aeree superiori che in caso di una patologia per esempio della tiroide stenosante può dar luogo a dei rumori patologici dovuta alla ristrettezza laringotracheale che si viene determinata dalla tumefazione della tiroide aumentata di volume. Per ulteriori delucidazioni sull'esame obiettivo del collo ci si può rivolgere alla e-mail che sta scorrendo in questo momento in sovraimpressione. Grazie per l'attenzione.